Devo parlare piano perché c'è gente, adesso mi avete rotto il cazzo, mi avete rotto di coglioni quando dicono siamo in difficoltà con la società, la società non esiste, la società inter non esiste, non esiste più ci sono solo due persone lì che stanno tenendo il banco, Ausilo e Marotta sono senza portafoglio e lo sanno, ci sono quattro spiccioli a rate, smettetela, avete rotto il cazzo io vi blocco tutti, io vi blocco tutti, avete rotto il cazzo, la società non esiste, il cinese deve andare via subito, al più presto, non me ne frega, anche se fallisce l'Inter, non me ne frega un cazzo ma io preso per il culo, non voglio essere più preso per il culo, dopo 30 anni di abbonamento smettetela di dire, la società è in difficoltà, la società non esiste, allo sbando, allo sbando svegliatevi, svegliatevi